Perché il progetto Sengim è un progetto chiaro ed ambizioso ma c'è ancora tanto da fare e questo diventa un'ottima opportunità di carriera per chi lavora all'interno. Sengim si muove nell'ambito civile, nelle infrastrutture e in quello dell'olio in gas e per noi che ci lavoriamo vuol dire possibilità ed esperienze diverse. Perché in Sengim i successi si ottengono sempre grazie al lavoro di scuole. Perché per un giovane è importante poter lavorare su grandi progetti internazionali per importanti clienti sia nell'ambito civile che in quello industriale. Perché il mio lavoro non è solo stare seduto davanti a una scrivania. Perché Sengim mi ha fatto crescere dal punto di vista personale e professionale. Perché Sengim è una sfida continua, non c'è mai possibilità di annoiarsi. Perché con la Sengim Academy ho la costante possibilità di aggiornarmi. Perché Sengim è una società che sta investendo molto in infrastrutture e persone in tutte e dodici le sedi, anche nella mia bella Genova. Perché Sengim mi permette di viaggiare, conoscere gente nuova e ho la possibilità di visitare città mai viste prima. Perché è un'azienda che punta molto sui giovani. Perché in Sengim posso crescere e iniziare a vedere come applicare nella pratica i concetti teorici studiati all'università. Perché all'interno di Sengim ci sono diversi rami da ingegneria e io posso scegliere in quale operare. perché Sengim vuole essere sempre diversa nell'atteggiamento e nella strategia. Lavorare in Sengim è una cosa molto bella e affascinante perché è una città in una crescita fortissima. Si è decomplicato il fatturato nel giro di quattro anni e si è passato da 40 a 210 dipendenti e ad oggi, con le prospettive che abbiamo, a 300 dipendenti nell'anno 2021. Non c'è nulla di quello che io conosco che rende così affascinante il lavoro di tutti i giorni. Perché in Sengim l'età media è di 41 anni. Perché in certi giorni della settimana ho la possibilità di lavorare da casa. Perché Sengim ti dà il senso di far parte di qualcosa di importante. perché Sengim mi permette di conciliare la mia figura professionale con la mia realtà di mamma. Perché in Sengim posso condividere le mie esperienze con le giovani leve. Perché in Sengim in questi anni abbiamo costruito una squadra di 16 persone che si occupa a tempo pieno di efficienza energetica. In Sengim affrontiamo ogni progetto come una nuova sfida, dove poter imparare sempre qualcosa di nuovo. Perché è un'azienda in forte espansione e c'è possibilità di fare carriera. Perché in Sengim mettiamo in ogni progetto testa, cuore e anima. In Sengim oggi su 210 addetti il 30% sono donne. Perché in Sengim si fondono la forza di una grande società con la mentalità e la reattività di una piccola e media impresa. Noi dipendenti Sengim abbiamo donato la progettazione di una nuova ala ospedaliera per far fronte all'emergenza Covid. Questa è stata una grande prova di squadra. Perché per me è stimolante sapere di poter dare un contributo alla Milano del domani. Sengim mi permette di fare la mia parte per la transizione del paese verso un futuro più grino. Sengim mi permette di fare la mia parte per la transizione del paese verso un futuro più grino. Sengim mi permette di fare la mia parte per la transizione del paese verso un futuro più grino.